Nasturzio, seminare in cialde di cocco Il nasturzio è una pianta meravigliosa di cui si possono mangiare i fiori e le foglie, che contengono oli di senape utilizzati come antibiotico naturale nella medicina naturale. Per coltivarlo sono praticissime le cialde in fibra di cocco che offrono molti vantaggi. Occupano poco spazio, sono ecologiche e pratiche e rinvasando non c'è bisogno di rimuovere i vasi. Lasciate alle cialde in fibra di cocco abbastanza tempo per impregnarsi bene d'acqua. Versate via poi quelle in eccesso. Il nasturzio, piantato a terra, all'aperto, può essere raccolto a partire da aprile-maggio, Nel caso di una cultura preparatoria sul balcone o nel giardino d'inverno, la raccolta può iniziare già a marzo. Alcune cialde sono compresse direttamente con una cavità, ma anche qualora abbiano questa cavità, non basterà contenere il grande seme del nasturzio. Nell'insalata i suoi fiori catturano la vista dando un tocco decorativo e danno un sapore piccante. Il nasturzio germina al buio, per questo i semi dovrebbero essere coperti almeno da tanto substrato quanto è il loro spessore. Con un foraterra, formate una cavità nella cialda in fibra di cocco, metteteci un seme e coprite con del substrato per piante. In alternativa, potrete spargere sulle cialde, setacciandolo, del terriccio da coltivazione, fino ad aver coperto bene le cavità con i semi. Coprite la mini serra per germinazione con l'apposito coperchio e sistematela sul davanzale. Per la germinazione, il nasturzio ha bisogno di una temperatura tra 15 e 20 gradi. In base alla temperatura, il tempo di germinazione varia tra 10 e 20 giorni. Per la germinazione, il tempo di germinazione, il tempo di germinazione, il tempo di germinazione, di germinazione, il tempo 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 di germinazione